oh vediamo se facebook funziona di più aspettiamo che arrivi qualcuno intanto metto metto su twitter 1 ciao 5 patrizia si vede scusa è così si vede si sente beh adesso aspetta che metto su twitter l'avviso sì ma probabilmente sarà in diretta come claudio borghi non come non come pagina vediamo aspetta eh sì sì tutto ok mi rendo conto ma scusate sulla pagina claudio borghi o claudio borghi aquilini signor claudio borghi a vediamo eh certo claudio borghi a teoria però dovevo metterlo sulla pagina vabbè pazienza dai mettiamolo qua e per oggi per oggi va così metto su twitter metto su twitter il link aspettate poi vediamo che ci 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 sistemiamo comunque aspetta allora 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 aspetta è aspetta ok aspetta questo ok aspetta Va bene, posso condividere sulla pagina da qui, robe troppo scientifiche, sì no lei non ha twitter ma normalmente io come dire, vediamo un po' com'è che si fa a condividere da qui No, questo scrive il commento, questo cambia la roba, bu, vabbè, ciao Ivan, pazienza dai mi prendete le cose come sono, no non è l'ufficio a casa Ufficio a figurarsi, non potevo nemmeno provare col wifi, dai proviamo qui e poi ci pensiamo su come venirne fuori Allora, confido che Fausto che vedo, che ho visto in diretta faccia partire il video da qua su, come si chiama, su, quando lo mette su youtube E possiamo iniziare a parlare anche perché tanto in una maniera o nell'altra vedo che qua sono 550 quindi direi che per essere una piattaforma dove di solito non trasmetto non è male Allora, 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 in basso sulla freccia condividi, sì non ce l'ho, la freccia condividi in basso, ah sì aspetta, forse la freccia questa qua intendi No, credo che sia più chiaro o meno chiaro questa roba qua, è più una saetta, mettiamola così che è una freccia Vabbè, ok, dai, iniziamo, mi sembra sufficiente, possiamo iniziare da qua Allora, oggi se devo essere sincero, l'idea, c'ho un po' perso ecco a stare in commissione bilancio perché non è molto interessante quello che si sta facendo Sul passaggio alla Camera del Cura Italia Stiamo combattendo per gli emendamenti, in certi casi combattendo non è un modo di dire perché sono successe delle scintille Ecco, non si possono dire le cose nelle riunioni non pubbliche però diciamo che qualche scintilla è venuta fuori Fra un noto parlamentare leghista e un noto parlamentare d'Italia viva E vabbè, quindi si cerca di portare avanti le idee Però vi posso assicurare che al di là di quello io oggi veramente avrei dato qualcosa per essere Ancora lavorare sui mercati finanziari, nello specifico in un desk dove si trattano le materie prime e in particolare il petrolio Perché oggi è stata una giornata storica Il future sul petrolio ha chiuso a meno 37 dollari il barile Sì, avete capito bene, meno 37 dollari Cosa significa? Allora, cerco di spiegarvela in modo facile per quanto possibile Allora, i future sono dei contratti dove si può comprare o vendere un qualcosa a un giorno con regolamento a un giorno futuro Deriva da quello, non perché prevedono il futuro o cose di questo tipo È semplicemente il giorno di regolamento Vale a dire, io compro una cosa oggi E questa cosa la comprerò effettivamente Cioè mi verrà consegnata Oppure, posto che la venda, dovrò consegnarla In un giorno fisso del futuro Quindi, e questo giorno è specificato su un contratto standardizzato Cosa significa? Per intendersi le famose cose di una poltrona per due Cioè in una poltrona per due, vi ricordate che trattavano il succo d'arancia concentrato, no? Il succo d'arancia concentrato Ovvio che non si scambiavano lì le arance Si scambiavano i future, vale a dire, ad un certo prezzo La promessa di consegnare il succo d'arancia tipo tre mesi dopo Cos'è la caratteristica del future? Che, essendo che tutti i contratti vengono sempre regolati alla stessa data Quindi se io, per dire, sto parlando di maggio Tanto per dirne una Se l'ho comprato un mese fa questo contratto Il regolamento viene fatto il 15 maggio Se l'ho comprato oggi viene fatto il 15 maggio lo stesso Per cui cosa succede? Succede che io posso tranquillamente comprare e vendere il contratto Tante volte magari nel corso di un mese E se alla fine ho comprato dieci volte il contratto E l'ho venduto dieci volte Non dovrò mai consegnare il petrolio effettivamente O il succo d'arancia o qualsiasi cosa che ci sia di sottostante Perché il giorno della scadenza ci sarà un bel partitario Dove ci sarà scritto che ho comprato dieci volte dieci contratti Ne ho venduti dieci Quindi io sono pareggiato Non devo consegnare niente E semplicemente dovrò pagare o incassare La differenza di prezzi in cui ho comprato questi contratti Motivo per cui i future sono perfetti per chi vuole speculare Io voglio giocare sugli spostamenti dell'oro, del petrolio, dei diamanti E così questo tipo E devo farlo Devo stare solo attento a una cosa Che il contratto non sia cosiddetto physical delivery Cosa significa un contratto physical delivery? Significa che alla scadenza Se io sono rimasto compratore o venditore del contratto Il sottostante viene effettivamente consegnato Per cui se io alla fine del periodo sono rimasto acquirente di petrolio E alla fine mi telefonerà qualcuno E mi dice dove glielo consegno il petrolio? Cioè glielo consegno a Rotterdam? Glielo consegno Stessa roba ovviamente se io lo vendo Cioè se io lo vendo chiamerà al mercato e dirà Dove intende consegnarlo? Quali sono i posti eligible per la consegna del petrolio? Io fisicamente devo mandare la petroliera E lasciare giù il petrolio fisico Bene Arrivando alla conclusione della vita utile Di questo contratto future Che in questo momento arrivava al giorno di scadenza Evidentemente un sacco di gente Aveva ancora da sistemare le posizioni Cos'è il problema? Il problema è che pare che col fatto che In una maniera o nell'altra Qua nell'emisfero nord Si sta entrando nel Si sta entrando nella bella stagione Nell'emisfero sud sono ancora in estate E tutti sono chiusi in casa Quindi non si Tutte le attività che sono maggiormente Oil consuming Quindi gli aerei Navi, macchine e cose di questo tipo Sono ferme Il risultato È che in una maniera o nell'altra Il petrolio non viene consumato Evidentemente Si è creato un tutto pieno In tutti i posti dove il petrolio Poteva essere stoccato Risultato Chi aveva ancora in mano questi contratti E alla fine Doveva necessariamente prendere E venderli Perché altrimenti Non Doveva chiudere il mese Non trovava nessuno disposto A comprarli In modo tale da fornire Un posto di stoccaggio Per poter mettere il petrolio Cos'è il risultato? Il risultato è che a un certo punto Disperati Hanno dovuto cominciare A pagare O affrire denaro Pur di far tenere il petrolio a qualcuno E siamo arrivati Incredibilmente Il prezzo è andato precipitando Per tutta la giornata E si è arrivati All'incredibile Livello di 37 dollari negativo Quindi Ci sarà stata una serie di persone Che hanno perso milioni E altre persone Che evidentemente Le hanno guadagnati Questi milioni Perché il future È un sistema Somma zero Cioè Non si bruciano I soldi Come qualche scemo dice Normalmente Per Per la borsa Matematicamente Se uno perde dei soldi Quell'altro li guadagna È proprio un'arena chiusa Quindi immaginate Il disastro Che può essere successo In una giornata Però è una giornata storica Ma soprattutto Questa giornata storica Sul Sul petrolio Però da una parte Uno lo vede Per chi è appassionato Come me Di mercati finanziari Dice Caspita Ho visto la storia I problemi geopolitici Che questa cosa comporta Sebbene Oggi sia Come vi ho spiegato Una cosa Tipicamente legata A una questione Tecnica Ma fa capire Dov'è l'andazzo L'andazzo è che In questo momento Il petrolio Non vale nulla O quantomeno Vale pochissimo Cosa comporta Per l'Italia In teoria Dovrebbe essere Un'opportunità Il petrolio È uno dei nostri Principali È uno delle nostre Principali Importazioni Di solito Tipicamente Per farla Proprio Facile 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 No L'Italia Che cosa fa A sbilancio Esporta Roba Quindi macchinari I beni di consumo La moda I vestiti Il turismo Per chiature di precisione Chimica Medicinali No Di questo tipo Questo è tipicamente Sono le voci Dell'export italiano E Acquista Automobili Medicinali Ma sono semilavorati Cioè In una maniera o l'altra Tanto Importiamo E tanto esportiamo Quindi I prodotti chimici E medicinali Sono una cosa Abbastanza tecnica E petrolio E gas Quindi Voi capite Che se una cosa Che è nostra Fonte di importazione Di cui noi abbiamo bisogno La regalano Per noi va bene No Cioè Immaginate Il simpatico scenario Dell'autarchia No Cioè Immaginate Il famoso scenario Della liretta Quello Con cui ci hanno Sfracassato Le gonadi Da tutte le parti Dicendo tipo Platerotti E compagnia bella Che dice Ah Se usciamo dall'euro Per andare a fare Il pieno di benzina Dovrai andare Con le carriole Perché Le materie prime Perché Il petrolio No La benzina Costerà 70 volte 7 Ecco In questo caso Se costasse Col prezzo Negativo Se costasse 70 volte 7 Significa Che ci riempiono Di soldi Per Per Prendere La benzina Ma voi Immaginate Anche soltanto A un livello Di prezzo A 20 dollari No Non so Tanto per dirne una Beh 20 dollari Noi Sinceramente Siamo stati Tanto tempo Col petrolio A 100 dollari Il barile Siamo Sopravvissuti Immaginate 20 dollari Significherebbe Che Anche Delle oscillazioni Del cambio Molto Molto Forti Tipo 24 Cioè Supponiamo Che In una maniera Nell'altra La lira Eventuale No Della La moneta Svaluti Del 30% Ecco Vabbè Ok Invece Invece Di 20 Lo pago 26 Cioè No Capite E qui Riveliamo Un'altra Delle cose Che vi abbiamo Detto Tanto tempo Fa Quando tutti I cretini Ci dicevano Questa rottura Di palle Del prezzo Del petrolio E Del costo Della benzina Vale a dire Che l'oscillazione Dei prezzi Delle materie prime Quante volte L'avete sentito Dire da me O da Alberto Che l'oscillazione Dei prezzi Delle materie prime È molto Superiore Di solito All'oscillazione Dei prezzi Delle monete Per cui Quando uno Dice Ah con la moneta Non riuscirai più A comprare Le materie prime Diceva una Cazzata Ok E oggi Abbiamo la prova Provata Quindi anche oggi Abbiamo avuto La simpatica prova Che quello che vi dicevamo Sempre Era vero E quello che Vi dicevano I cretini Era una Boiata Boiata Per cui L'oscillazione Dei prezzi Delle materie prime È sempre Stato Una cosa Enorme E Di sicuro La svalutazione O rivalutazione Della 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 moneta Comporta Che Le cose Non Non rientrano Nel Nel Potenziale Fattore Di rischio Cosa comporterà Se effettivamente Il prezzo Del petrolio Dovesse rimanere Molto basso Quindi intorno Appunto Ai 20 dollari Al barile Per il Brent O Qualcosa del genere Beh Comporterà Purtroppo Che Ci saranno Come al solito Alcuni Paesi Che avranno Dei gravi problemi Vi ricordate Quando noi Vi abbiamo spiegato Sempre per la serie Vengono tutti i nodi Al pettine Vi ricordate Quando noi Vi abbiamo spiegato Il motivo Della crisi Del Venezuela Cioè Del perché Il Venezuela E mi autoclicco Perché il Venezuela Si trovasse Con le cariole Di monete L'iperinflazione E così via Rispetto Ad altri paesi Perché Il suo petrolio Costava molto Produrlo Se era tarati Con i consumi Sui prezzi Del petrolio Attorno appunto A 100 dollari Al barile Nel momento stesso In cui Il prezzo del petrolio Da 100 dollari Al barile Erano passati A 50 Istantaneamente Se la tua fonte Di ricchezza In giro per il mondo È quella lì Il risultato È che devi fare Cinghia Non volevano Fare cinghia Allora Hanno iniziato A stampare denaro Per cercare Di Colmare Una cosa Che Una cosa Che purtroppo Era inevitabile Ma se tu compri Delle cose Importate Quindi se La tua economia È basata sul petrolio E vuoi comprarti Il Le pesche Che invece Sono fatte In Italia O il vino O lo champagne O quel cavolo Che è O le medicine O similari Quindi tu importi Buona parte Del Buona parte Che stampi Tu non compri Non compri Le pesche Non compri Le cose Di importazione E il risultato È che vai a finire Male Vi abbiamo Altresì Spiegato Che per l'Italia Questa cosa Non succede Perché l'Italia Fa prodotti Pertanto Facendo l'Italia Prodotti Se il prezzo Se la moneta Scende Quindi se perde valore I prodotti Diventano più convenienti Pertanto Succede che l'Italia Non è soggetta A I problemi Che invece Hanno i problemi I paesi Con le materie prime Infatti Guarda caso Quasi tutti i paesi Che hanno le materie prime Sono economie emergenti E in tanti casi Finiscono male Chi va a finire male Con il petrolio basso Va bene la soddisfazione Per l'Italia C'è qualche piccolo problema Perché Capite che avremo Tanta gente Che comincerà a fare la cinghia Stile Venezuela E non è detto Che abbiano voglia O che ci riescono Me ne viene in mente Uno Che è più pericoloso Di altri La cui economia Dipende in larga parte Dal petrolio Vediamo se Vediamo se Indovinate Chi sono Chi è un paese Un po' pericoloso Che Ha un'economia Che dipende Molto dal petrolio E vabbè Qui arrivano Tutti Sta guardando Devo capire bene Come funziona Qua sui messaggi Perché Arrivano Tanti Sta guardando il video Ma arrivano Meno di messaggi Vabbè Comunque guarda In ogni caso Ve lo dico io Ve lo dico io Ed è L'Iran Voi immaginate Un paese Come L'Iran Che Eh ma l'Arabia Capite Sono Mi preoccupano Di meno Non so Certo Arabi Emirati Senza dubbio Kuwait E così via Però Quelli Mi preoccupa Di più L'Iran L'Iran Voi immaginate No Una marea di gente Provata Già Dall'epidemia No E così via Perché sono stati Fra i primi Avere Avere Il Corona Il coronavirus E che si trova Ad avere La principale Fonte di Sostentamento Azzerata O che vale Molto di meno Arabia La Russia Forse deve ringraziarci Per le sanzioni Perché in una maniera O nell'altra Si è molto Diversificata No Ultimamente Però certo Non gli fa piacere C'è un altro paese Che a me invece Fa una paura Fa una paura Matta L'Algeria E gli algerini Sono vicini E gli algerini Si tengono su Solo col petrolio O quantomeno Quasi solo col petrolio Io avere un algerino A cui cominceranno a dire Che Qua vicino Non Che lui deve fare cinghia E Insomma Boh Diciamo Se io fossi Se io fossi Il governo In questo momento Con i virgolette Pieni poteri Una Delle Delle spese A cui io Mi dedicherei Anche per Risollevare L'economia italiana Che sinceramente Ne ha abbastanza bisogno Sono spese militari Qualcuno adesso Mi vorrà ancora Cioè Borghi Guerrafondaio Così questo tipo No Borghi non è affatto Guerrafondaio Ma se c'è un gran casino In giro per il mondo A me piacerebbe Avere un esercito Che mi difende Un esercito Minimamente Efficace E la Libia Certo La Libia È un altro paese Che dipende Solo dal petrolio Però Sono anche Sono anche messi Malino In una maniera O nell'altra Io Non so Questo è un cambiamento Secondo me Geopolitico Che rischia di essere Incredibile E Boh Cioè nel senso Guardo le cose Con gli occhi Di uno Che Ha vissuto Sempre sui mercati Finanziari E In una maniera O nell'altra Una cosa Del genere Non è Senza Conseguenze Sì certo L'OPEC Ridurrà la produzione Ma il fatto Che riduca La produzione Finché rimane La situazione Così Riduce la produzione Ma riducono Anche Riducono Anche I guadagni Cioè non ne vengono fuori Insomma Se non aumentano In modo esponenziale Cioè se non ritorna A prima Con i consumi Di carburante Io non la vedo Immediata Ah Un'altra cosa Che fortunatamente Per certi versi Secondo me Finisce È Greta Ora Qualcuno dovrà Spiegarmi Ormai In In un In uno stato In un paese Dove In una maniera Oll'altra I soldi Credo che Non abbonderanno Dove In che maniera Io devo fare La transizione All'elettrico Quando c'è Il petrolio Gratis Secondo me Diciamo che Non sarà Esattamente La prima La priorità Ecco In giro Per il mondo Per In questo momento Il Green New Deal Ecco Mettiamola Mettiamola così Comunque Boh Fatto sta Che Secondo me Questa cosa Ci deve far imparare Molte cose Questa cosa Ci deve far imparare Com'era fragile Quell'equilibrio Di prima Cioè Vi rendete conto Il mondo Che si teneva Su un sistema No Così 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 interconnesso E così Incredibilmente Fragile Che è bastato Un'influenza grave No È bastato Un'influenza grave Per far saltare Tutto il sistema Ma io Sinceramente Sono contento Di essere in Italia In una situazione Del genere Sono contento Di essere Di essere in Italia In una situazione Del genere Perché In una maniera O nell'altra Voi immaginate Tutti i paesi Del mondo Che vanno In autarchia No Ma io penso Che Secondo me Noi ce la caviamo Benino E' l'Algeria Che non se la cava bene Perché dopo un po' A furia di cocco O di datteri Secondo me Non Gli va Benissimo Abbiamo avuto Tanta gente Che in una maniera O nell'altra Ha messo via Delle scorte Per esempio Prendiamo un altro paese Che ha fatto la fortuna Sul petrolio Norvegia Ecco A Norvegia Sono stati abbastanza prudenti Tutto quello Che guadagnavano Sul petrolio Mettevano via No Mettevano Mettevano via Stoccavano Avevano Questo fondo sovrano Che era il più grande Del mondo E quindi In una maniera Nell'altra Loro hanno Del fieno in cascina Però Del fieno in cascina In una maniera Nell'altra È il solito discorso Cioè bisogna vedere Quanto dura Cioè se è una cosa Momentanea E poi si riprende Subito come prima Ok Altrimenti Bisogna Immaginarsi Veramente Dei nuovi paradigmi Bisogna immaginarsi Delle 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 nuove cose Io penso Che in una maniera O nell'altra Qui in Italia Noi abbiamo Delle chance Di poter Avere un Nuovo sistema Economico Che anche Contando sul fatto Che appunto Queste materie prime Queste Queste Fonti energetiche Costano pochissimo Potrebbe avvantaggiarci E ma Cosa la facciamo fare La facciamo fare A 5 stelle La facciamo fare A Giuseppi Lo facciamo fare A chi Questo Qualsiasi sistema Che noi volessimo Ricostruire Partendo Da questa situazione Può funzionare Soltanto se entriamo Nell'ordine idee Veramente Di fare un reset Generalizzato Mi spiace Poi come vi ho detto Tante volte Il sistema Tale per cui Anche in futuro Tu ti puoi riportare In casa Le produzioni Sfruttare il fatto Che l'energia Costa poco Per riuscire a fare Delle produzioni Competitive Anche Domestiche In modo tale Da poter Tornare Quelli che eravamo Purtroppo Non prescinde Da Non prescinde Dalla valuta Quindi Bisognerebbe Proprio Veramente Fare un reset Sistemare Ricostruire I rapporti Fra i paesi europei Tornare alla comunità Economica europea Quindi al sistema Di Maastricht Evitiamo Di dover fare Tutte queste cose Penose Dei vertici Del 23 Per chiedere Che cosa fare O similari E Questo Sarebbe La possibilità Di poterci A gestire E Come Riusciamo Noi a compensare L'inevitabile Calo di Domanda estera Che ci sarà In un paese Che riprenderà Piano A Vivere Come prima E forse Nemmeno come prima Difesa Infrastrutture Edilizia La nostra domanda interna È compressa Da Da una marea Di tempo Quindi Noi avremmo La possibilità Di farci Da soli Che dipendeva Dal petrolio Immaginate Poi Tra l'altro Poi il giapponese C'è anche un po' di culo Se devo essere sincero Stefano Pizzamiglio Ciao Stefano Il giapponese Il giapponese Fra l'altro C'è anche un discreto culo Vi ricordate Che dopo la storia Di Fukushima Il terremoto Avevano chiuso Tutte le centrali nucleari Per metterle in sicurezza Nel frattempo Perché tanto In ogni caso Avevano valutato Che si poteva Tranquillamente Passare Per un po' A importare energia Io sono convinto Che in una maniera O nell'altra Loro non le abbiano Ancora riaccese Le centrali nucleari E in una maniera O nell'altra In questo In questo caso Loro che sono Stati storicamente Anche lì Paesi senza combustibili Fossili Potranno Potranno approfittare Hanno la Bank of Japan Non devono stare lì A fare Non devono stare lì A fare i conti Di vedere Oh ma Cosa facciamo Cosa facciamo Per puntellare l'economia Prendono Danno Soldi Quelli che servono A tutti Per riuscire A tenere in piedi La situazione E Non perdono tempo Come noi Che siamo già Quasi al terzo mese E c'è ancora Una marea di gente Che non ha visto Un centesimo Ah Tra parentesi Tra parentesi Oggi per esempio Ho parlato con i rappresentanti Di fede a distribuzione Che mi stanno segnalando Che i supermercati Che all'inizio Dicevano Ah ma I supermercati guadagnano Adesso stanno cominciando A perdere anche i supermercati Perché non arrivando I soldi Della cassa integrazione Non arrivando Avendo finito subito I 600 euro E così via Il risultato è che La gente comincia A comprare meno Anche nei supermercati Perché Come Viene fuori Dallo studio Quello che aveva L'ho dato Anche Anche Krugman Se tu Chiudi Delle linee Di produzione E non Compensi I lavoratori Di quella linea Di produzione In pieno Per lo stipendio Perso Anche Le linee Rimaste Di attività Rimaste aperte Falliscono Perché ovviamente Hanno la metà Della clientela Quindi Cioè la gente Ovvio Non è che Digiuna Però Il supermercato Ovviamente È tarato Per una spesa Di un certo tipo Quindi uno magari Compra anche Delle cose Che non siano Di strettissima necessità Normalmente Al supermercato Magari compra I cioccolatini Magari compra I biscotti No? Così di questo tipo Se uno invece Compra soltanto Il pane Il prosciutto cotto O la scatoletta Di tonno Vedete che anche Il supermercato Comincia A A fatturare Di meno Per cui Noi le possibilità Ce le avremmo Ma dobbiamo Muoverci Perché è evidente Che se In questa Situazione Così incredibile Geopolitica Noi ci perdiamo Tempo a baloccare A fare nulla E Il risultato Che ancora Questa volta Considereremo Questa situazione Come rimpianto Mentre noi Dovremmo essere Qua a agire Domani arriva Giuseppi Domani arriva Giuseppi In Parlamento È incredibile Incredibile Ma non si vota Quindi sarà Prima in Senato Se non erro Alle tre Dopodiché Alla Camera Alle cinque e mezza Dirà la sua favoletta Dirà che siamo stati cattivi Perché non abbiamo approvato Gli euro bond No Così questo tipo Giuseppi O qualche altra balla Che gli viene in mente Dirà che va tutto bene Che stanno facendo Sforzi sovrumani Che lavorano intensamente Che bisogna fare La bodenza di fuoco No E tutte Insomma Tutte le cazzate No Che normalmente Questo ormai ci propina Da mesi Che La casa integrazione Verrà pagata subito Doveva essere pagata Il 15 No Se non erro E Similari Ma il risultato Che alla fine Lui andrà al 23 Senza un voto Che lo vincoli Perché I gruppi di maggioranza E segnatamente Il voto decisivo Del Movimento 5 Stelle Ha voluto Che fosse Solo una comunicazione A cui Per carità Risponderemo Per le rime E lo vedrete In diretta televisiva Io sono convinto Credo ovviamente Che per noi Qua alla Camera Parlerà Molinari Che è il più bravo di tutti Per il discorso d'aula Quindi Qualcuno aprirà sicuramente Gli occhi Ma il risultato È che Loro vanno Senza Il mandato Del Parlamento Questa cosa È gravissima Io Ho già evidenziato In 2000 Volte Questa La questione Perché Sappiamo benissimo Tutti quelli che ci seguono Che tanto Il MES Deve arrivare Il piano è quello Ci abbiamo Dei traditori Che stanno lavorando Appositamente A quello Da tanto tempo Far firmare il MES Perché Oh Un 36 miliardi Vuoi non prenderli Oggi ho sentito In televisione Cottarelli Cottarelli Che Siamo arrivati Da Giletti Che ieri sera Toc toc Sono Giletti Chi sei Sono Visco E similari Bagnai è molto più bravo A farla L'ho sentita 50 volte Se non l'avete sentita Andate a sentirvi La diretta di Bagnai Di ieri Quando fa Giletti e Visco Che si incontrano E in una maniera O nell'altra Ha detto Una balla clamorosa Giletti In diretta Ha detto Ah ma La La banca centrale Non crea Non crea Moneta No E come no La banca centrale Non crea moneta E oggi pomeriggio Abbiamo sentito Cottarelli Che dice Ma le condizioni Del MES Non possono cambiare Exposto Balle Balle costanti Non posso neanche dire Reti unificate Perché Tutte le reti A turno Cambiano Poi ogni tanto C'è qualche minimo Momento Di verità Ma è seppellito Dalle Dalle balle E intanto Ci portano Ci portano A quella Quella cosa lì Cioè Loro Hanno già capito Cos'è il nostro futuro Noi dobbiamo firmare Il MES Una volta firmato Il MES E vincolati Per il futuro Allora le cose Magari Potranno essere Messe in moto È una schifezza È una porcheria È uno schifo E io sinceramente Vorrei lasciarvi Dicendo qualcosa Vi ricorderemo Perché qua Capite bene Che al di là Delle convenienze O meno del petrolio Similare C'è la democrazia In pericolo Vorrei dire anche Un'altra cosa Signori Adesso per carità C'è il covid O così questo tipo Ma Secondo me Noi possiamo votare Anche subito Cioè Con che scusa Noi possiamo Continuare a dire Che non si vota mai Non si vota Perché Perché Cioè Fatemi capire Perché non Perché non si vota Io se esco Posso andare al supermercato Ma non posso andare A un seggio elettorale Mi risulta che Nella cabina Eccolo qua Mi risulta Mi risulta Che in una cabina elettorale Ci sia Ci sia spazio Non Non sia pericoloso Per cui In una maniera O nell'altra Diciamo di venire Con i guanti Così non si tocca Tutti la stessa La stessa matita Ma io direi Che mi pare Il caso Di votare Ricordate che Non c'è soltanto Il voto Il voto Per Eventualmente Se dovesse cadere il governo Ma ci sono dei voti Che Questa è un'eventualità Una speranza Ma ci sono dei voti Che non scappano Ci sono dei voti Che quantomeno Devono essere fatti Le elezioni regionali Veneto Liguria Toscana Puglia E così via E questa roba qua Che famo Eh Quindi È incredibile Che non si voti In Parlamento Prima di un consiglio Europeo Diventa Una comoda scusa Fra un po' Diventerà una comoda scusa Quella di non poter votare Perché Perché non si possono fare i comizi Rinunciamo ai comizi Facciamo dei bei comizi online E così via Cioè figurati Ma secondo me Non puoi comprimerlo più di tanto Prima o poi Qui Bisogna votare E io Sono convinto Che bisogna farlo Molto prima Che poi Ho bisogno Di votare Per rendermi conto Di essere ancora Una democrazia Perché Tante volte Mi viene lieve Sospetto Che Per il nostro bene Ovviamente Perché non vorremmo mai Che ci ammagliamo Perché non vorremmo mai Che ci ammagliamo Quindi mettiti l'app Facoltativa Però Tendenzialmente obbligatoria Perché se no Non esci Va in Parlamento Ma Devi solo fare questa cosa Altrimenti Non voti Lascia che io Negozi Il mess Il sur O quelle cose lì Ma non votare Un atto di indirizzo Perché Chissà mai Non mi piace Allora Diciamo così Mi piacerebbe pensare Che sono io Che penso male Che non è vero Che ci sono Derive autoritarie Non è vero Che ci sono prove di regime Che va tutto bene E allora Per essere sicuro Che va tutto bene Prima votiamo E meglio è Perché con la democrazia Non si scherza La gente è morta Molto più Che per il covid Per regalarci La libertà Di essere Governati Con il nostro voto